Gentili telespettatori, buona giornata. Perché il partito di Fratelli d'Italia è sceso ma anche no? Cosa vuol dire? Fratelli d'Italia passa dal 27,7% delle politiche al 24,1%. Quindi un 3,6% sarebbe sceso. Perché sarebbe? È sceso, come vi dicevo, ma anche no. Perché alle regionali c'era anche la lista Marsilio, presidente, uomo vicinissimo alla Premier, che ha conquistato il 5,72%, mentre nel 2019 Fratelli d'Italia prese il 5%. Quindi se sommiamo il 24,1% più il 5,72%, praticamente arriviamo quasi al 30%, vicinissimi al 30%. Questo è il perché. È sceso ma anche no. Grazie a tutti e arrivederci a presto.